Mare, non faccio così, non faccio un sì, ma quando mi maritai un mingheri, la barzelletta è mia, se vi è piaciuta vi ringrazio, e ringrazio Giuseppe che ovviamente è la migliore, però questo ovviamente vale per uomini e per donne, perché una donna potrebbe dire alla voce ma quando mi maritai un mingheri, è uguale, in ogni caso questa è una barzelletta, di quelle semplici, facili, perché poi uno la barzelletta, Salvo, la ascolta, la ricorda e la riracconta agli amici, adesso stanotte, che è notte di Ferragosto, che sa quanti la passano in spiaggia, io c'è chi tu si è andato con delle barzellette, ma a proposito di barzellette vorrei parlare, visto che ho Salvo sul palco con me.